Adesso ti veniamo con gli occhi lucidi e io ti dicevo al precedente che è stato un bel sogno e che sogno. Sicuramente gli occhi lucidi sono un po' per questi sogni che smagisce, però vedere anche la gente che ti applaude è trono più emozionale, comunque è un po' che è mensuoso, è un po' che non fa, magari uno o due volte devo capare però sono felice per fare contro queste operazioni. Hai parlato di pubblico, sul 3 a 0, volata di buona sea, il pubblico era invisibile come se fosse 3 a 0? Beh certo, anche per me lo era, secondo me il mio quartiere è stato bravo, io ho spagnato, ci sarà sempre tempo per rifarsi. Che cosa ti lascia questo 10 a 0? Sicuramente molta, molto esperienza, tante emozioni. E' un'ultima squadra, una squadra forte che può giocarsela contro le parecchie tante emozioni. Ora testa il campionato, ci sono altri grandi obiettivi? Sicuramente uno dei nostri retriti sarà il campionato, quindi ora avremo la testa impugnata su questo, è una compiegata, quindi sarebbe piacere bellissima. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Grazie.